Sarà un'edizione piena di novità per un festival che ha appunto 56 anni e 57 edizioni, sembra strano, però abbiamo lavorato molto su alcune novità. Ci sarà un concorso internazionale aperto a tutti i film, a tutti i formati, molto sperimentale. Ci sarà un evento speciale dedicato a Liliana Cavani, l'unica regista finora omaggiata dalla mostra del cinema in tutti questi anni. Ci sarà il cinema d'animazione curato da Pierpaolo Freda. Ci saranno delle sezioni, come dire, in qualche modo storiche che portiamo avanti, ma ci saranno anche molte novità, pensate proprio per la città. Iniziamo il sabato iniziale, il 19, con i 40 anni dei predatori dell'arca perduta, quindi Indiana Jones, presentato da Gabriele Manetti, regista di, lo chiamiamo oggi, Grobo. E subito dopo, domenica, ecco la musica che entra nel festival con Naip, una delle sorprese di X Factor della recente edizione, che sonorizza dal vivo dei film dell'avanguardia degli anni 20. Quindi ecco le novità. Musica, ci sarà una sezione interamente dedicata ai videoclip, 20 videoclip italiani che verranno poi votati dal pubblico. Tra le altre novità, per la prima volta il festival si avvicina ai più giovani, cerchiamo nuovi pubblici, lo cerchiamo tra i bambini delle scuole primarie, con una sezione, direi quasi un festival nel festival, che si chiama Pesaro Film Festival Circus, con proiezioni in anteprima di film di animazione, workshop, tutto dedicato ai bambini, che si muoveranno anche con la bicicletta, che è diventato il mezzo ufficiale di locomozione del festival, perché sarà anche un festival totalmente green. Dopo l'edizione di Resistenza, ma in realtà incredibile, tenuta l'anno scorso fuori periodo, torna nel periodo abituale di metà giugno, quindi anche con il compito di avviare la stagione culturale della città, anche la stagione turistica. E' un bel ritorno anche il fatto di essere qui oggi al Cinema Astral, non solo come luogo di presentazione, ma come un cinema che riapre e riapre all'insegna del festival, quindi anche un luogo storico della manifestazione, in cui ci riappropriamo, tra virgolette, grazie alla disponibilità di Urbinelli, che è sempre vicino al cinema e alla manifestazione. Devo dire che ci regala grande soddisfazione la soddisfazione del pubblico, è banale dirlo, ma è veramente così. In questi anni devo dire che c'è stato un coinvolgimento che ha permesso di allargare la nostra platea, che storicamente era fatta di persone che avevano un interesse speciale verso il cinema, ma ultimamente si è allargato anche a persone meno specialiste, grazie a un'offerta più accessibile, se vogliamo, il cinema in piazza, il cinema in spiaggia di questi ultimi anni, e anche la novità di quest'anno il Pesaro Film Festival Circus per crescere gli spettatori del futuro. La musica che non manca da tanto tempo nel festival, il muro del suono, ha fatto un po' la storia recente del festival anche in termini di atmosfera, diciamo, da festival, non è stato possibile l'anno scorso o quest'anno svolgerla, anche se l'anno scorso ricordiamo tutti il concerto Lucichini dappertutto, in ricordo di Mirko Zagor Camillas, che avrebbe dovuto dirigere la stessa sezione del muro del suono, e quest'anno con Vittorio Ruben, non direi che vediamo affacciarsi nel frattempo, saluto appena arrivato, e un progetto musicale con Naip per mantenere appunto, diciamo, un livello importante di dialogo tra la musica e il cinema, e in attesa di poter tornare per l'anno prossimo, magari a una sezione musicale più strutturata, che possa continuare a essere un segno di riconoscimento di una mostra del cinema con questa storia in peso creativa della musica.